l'aviatore del tuo toserba non va l'aviatore della tua motosega non rientra e vi resta la corta così come si fa a caricare la molla andiamo a vederlo in 60 secondi semplicissimo una volta sganciato il pezzo dalla macchina esattamente così dovete avere il pezzo a banco prendete una pinza e tirate fuori la corda esattamente così mi date quattro giri trattenendo la puleggia con l'altro ditto tirate la manetta fateli entrare la corda e avete finito l'aviatore funzionerà alla grande ecco qua guardate ragazzi e la sequenza di riparazione è sempre la stessa anche per altri avviatori